Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come programmare i vostri post Facebook e Instagram con uno strumento semplice, veloce e gratuito. Quante volte vi è capitato di saltare una pubblicazione o di lasciare la pagina vuota per settimane, mesi, solo perché non si ha tempo o solo perché è successo un imprevisto X? Per questo motivo è opportuno programmare i nostri post mensilmente, settimanalmente, in modo da avere la nostra pagina sempre piena di contenuti. Online ci sono vari strumenti per poter programmare i nostri post. Tutto dipende da dove vogliamo pubblicare. Sicuramente ci saranno tanti siti web o applicazioni a pagamento che ci permettono di programmare contemporaneamente su diverse piattaforme come YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tutto il contemporaneamente. Ma l'argomento che andrò a trattare oggi è la programmazione di post su Facebook e su Instagram. Facebook stesso ci fornisce uno strumento molto semplice ed efficace che ci permette di programmare i nostri post. Questo strumento è Facebook Creator Studio. È uno strumento che ci permette in pochi step di programmare il nostro post. Andiamo a vederlo insieme. Quello che dovremmo fare è andare su Google e cercare Facebook Creator Studio. Una volta fatto l'accesso al tuo account ti troverai di fronte a questa schermata. Allora in alto avremo il simbolo di Facebook e di Instagram. Quindi potremo accedere singolarmente alla pagina di Facebook e cliccando sul simbolo di Instagram accederemo alla pagina di Instagram. Come potete vedere cliccando Facebook e Instagram va a cambiare il colore e cambierà anche la schermata. Quello che noi interessa è programmare i contenuti. Innanzitutto possiamo vedere i contenuti già programmati fino adesso sia su Facebook che su Instagram andando sulla libreria contenuti. Come possiamo vedere abbiamo tutti i contenuti e tutti i vari dettagli dei nostri contenuti anche lo stesso per quanto riguarda Instagram. Noi abbiamo qui libreria contenuti. Possiamo anche filtrare per video, foto, storie, tutto quello che vogliamo. Inoltre abbiamo anche il calendario dove vediamo in quale giorno abbiamo postato e anche i nostri post futuri. Per poter creare il post innanzitutto possiamo decidere dove vogliamo pubblicare il contenuto. Abbiamo due opzioni. O possiamo pubblicarlo su Instagram e in contemporanea pubblicarlo su Facebook o creare due post separati, quindi programmarli anche in un'area diversa sia su Instagram che su Facebook. Di solito è quello che io faccio. Cioè mi creo un post programmato su Instagram e un post programmato su Facebook. Magari Facebook e Instagram hanno un pubblico diverso e quindi degli orari diversi di pubblicazione. Prima di creare il post su Instagram o su Facebook ricordatevi di impostare la vostra foto con il giusto formato che è 4 quinti e con la giusta risoluzione. Per chi non se lo dovesse ricordare ho già fatto un video nel quale vi spiego come impostare la foto nel giusto formato per non perdere qualità una volta pubblicata. Una volta formattata la nostra foto possiamo pubblicarla. Ed è molto semplice. Basta andare su Crea Post, Feed Distance, Aggiungi contenuto, quindi noi cerchiamo la nostra foto. In questo caso io metterò una mia foto. Una volta scelta la vostra foto dobbiamo innanzitutto scegliere il formato. Quindi questa foto essendo impostata già in 4 quinti noi andiamo a scegliere Vertical, quindi formato verticale. C'è anche il landscape e il formato 1 a 1 quadrato. Quindi andiamo in verticale. Una volta scritto il titolo, una volta impostati gli hashtag, il luogo, i tag e le impostazioni avanzate per poter pubblicare la foto basta cliccare Pubblica. Se invece la vogliamo programmare clicchiamo sulla freccia. Si aprirà un menu a comparsa e clicchiamo su Programmazione. E quindi qui apriamo un calendario, un orario e possiamo decidere in quale giorno e ora pubblicare. Ad esempio io metterò un orario X, clicco Programmazione e abbiamo un nuovo post con stato del post programmato e ci dice anche data e ora in cui verrà programmato. Stessa cosa si fa con Facebook, quindi si crea il post, si aggiunge tutto quello che si vuole inerente con Facebook e si può programmare. Sicuramente ci saranno tanti altri modi per programmare i nostri post, ma se il nostro obiettivo è quello di programmare su Facebook e Instagram, la mia opinione è quello di utilizzare uno strumento fornito da Facebook stesso che è molto veloce e molto intuitivo. Tutto a portata di mano e potremo programmare i nostri post settimanalmente, mensilmente e quindi una volta programmati potremo anche non preoccuparci del nostro profilo. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo.